... Incidente questa mattina, venerdì 10 novembre, poco prima delle 11.30, sulla Provinciale 1, direttissima tra Robassomero e Veneria Reale. A scontrarsi un mezzo pesante e centinato, un camper. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale di Veneria, i Vigili del Fuoco, la Croce Verde di Veneria e l'elisoccorso del 118. Dopo il violento impatto, il camion ha sfondato il muro che delimita la mandria, mentre il camper ha terminato la sua corsa contro Dumpalo. Il bilancio è dei due feriti, uno è ritrasportato all'ospedale CTO e una donna portata all'ospedale Maria Vittoria.